Weeey! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weeey! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo e tanto atteso video! Io sono XIUDER e perché carico un video alle 13.30? Perché sembrerebbe che finalmente qualcuno in Italia abbia dei codici LEGIT del piccone MINT! In italiano si chiama Menta Piperita! Il nome del piccone come sapete ragazzi sono due le tipologie di codice che potete trovare La prima è quella che vi dà il random loot ed è un codice o meglio più codici che possono essere utilizzati fino a 100 volte per 100 persone diverse Mentre il piccone MINT invece al momento della riscossione del vostro codice vi darà ovviamente solo il piccone ed è utilizzabile una volta sola Nella descrizione del video troverete i contatti di questo ragazzo che si chiama su Twitch ITZ-D3M O altrimenti potete anche contattarlo su Instagram IMMARKSTOISA Quindi davvero un grazie speriamo che funzioni veramente questo codice le foto sembrano buone Alla peggio la prendiamo nel sedere Speriamo di no ragazzi Quindi senza indugiare o ingurgitare andiamo direttamente nella sezione dedicata alla riscossione dei codici Che è praticamente la pagina ufficiale di Epic Games Dove siete nel vostro account e nella colonna di sinistra Redeem code quindi riscatta codice Andiamo a inserire ragazzi il codico e vediamo cosa succede Per correttezza le prime quattro cifre le oscuro un secondo Un momento Metti che poi me lo fregano Mentre lo sto riscuotendo Un momento eh Un momento Ok Prima di riscuotere il riapro lo controllo Ok Direi che ci siamo il codice è questo Redeem Riceverà il piccone minti Confirm Squalb Signori dovete andare da questo ragazzo Ha dei prezzi fenomenali per il piccone Il piccone è stato riscosso Io a questo punto Scusate per dovere di cronaca Riavvio fortnite Perché sembra che funzioni Vi ricordo che Qua sotto Nella descrizione Lascerò i suoi contatti E adesso voglio Intanto lo voglio ringraziare Grazie Grazie di cuore Perché lo stavamo veramente cercando Da tantissimo È un ragazzo super serio Ragazzi quindi mi raccomando Fateci un salto Da noi in italia non è detto Che arriverà il piccone Sto aspettando che apra fortnite Perché sono molto molto curioso Di vedere se E come Sarà in game Vediamo un attimo Me che lentezza Ok lo sta aprendo Lo sta aprendo ragazzi Attenzione Proviamo subito Qualche altro secondo di attesa E vediamo un pochettino Questo piccone Tra l'altro pubblicherò anche su instagram La foto In modo che Riusciremo A fargere più la voce Ragazzi Super serio Super serio Attenzione Daie Daie Itz Trattino basso D3 M Vediamo Battaglia reale Incrociamo le dita Spro Ascia Festa Piperita Direi che è tutto Perfetto Io vi ringrazio Soprattutto ringrazio It them Per questo bellissimo Piccone Noi ci vediamo Sempre qua con i video su youtube Prestissimo Ciao Why ragazzi in chat su twitch Rimango in live Noi ci vediamo